Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione oggi sono qui per recensire i waffle del marchio Go Fitness eccoli qua, gusto vaniglia e gusto doppio cioccolato iniziamo prima da questo vaniglia, poi dopo ve lo faccio vedere nel taglio e facciamo anche il taglio insieme ma dire la verità è che questo è molto morbido e vi voglio dire i valori per 50 grammi su di per tutto il waffle a 205 calorie, 11 grammi di grassi, 18 grammi di carboidrati, 11 grammi di polioli fibre 2,6 e proteine 12 grammi e dire l'odore, sento molto l'odore del l'odore della vaniglia si sente però mi dà tipo quell'impressione del dolcificante alla vaniglia oppure di quei sciroppi zero alla vaniglia ecco l'odore mi ricorda molto quello comunque è molto molto morbido per essere comunque un waffle imbustato quindi confezionato buono oh è giù veramente buono wow no questi li dovete assolutissimamente provare sono la via del mondo devo andare a curiosare sul sito ufficiale non so se c'è ma dopo vado l'odore è un po' ma il sapore è buonissimo questo la mattina pone un po' di crema proteica a pistacchio è veramente buono 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 infatti dopo me lo finisco andiamo a provare anche doppio cioccolato perché questo secondo me è ancora più buono perché è ricoperto allora per 50 grammi ha 214 calorie 12 grammi di grassi carboidrati 18 grammi zuccheri 4 sì zuccheri 4 grammi poi l'olio 9 grammi fibre 2,6 e proteine 11 grammi quindi ha un grammo in meno di proteine rispetto all'altro e ve lo faccio vedere nel dettaglio questo l'odore sapete cosa mi ricorda? il panettone ricoperto di cioccolato fondente assaggiamo lettermente più duretto ma proprio poco 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 perché ovviamente c'è il cioccolato fondente sopra quindi è normale ma è spaziale no mamma che buoni no questi li dovete acquistare io non ho mai assaggiato nulla di così buono confezionato proteico ma è una goduria esagerata io sono scioccata io per la prima volta mi trovo in difficoltà per la prima volta non posso dare una classifica cioè non la posso fare perché io li riacquisterei entrambi entrambi stanno al primo posto wow no io sono scioccata scusatemi la reazione ma è completamente impossibile trovare un prodotto confezionato proteico che sia così buono che non sembra assolutissimamente un prodotto proteico confezionato wow io sono scioccata e quindi nulla io spero che questa mia recensione vi sia piaciuta e nulla ci vediamo nel prossimo video ciao ciao